un cordiale saluto e buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di martedì 24 novembre 2020 canale 17 di fano tv con l'informazione di prima mattina che si apre con la lettura delle pagine dei titoli delle pagine selezionate per voi con qualche commento alla stampa del giorno allora andiamo subito sul vedere il santo di oggi e poi il tempo oggi andiamo in vietnam santi martiri vietnamiti oltre 100 le persone barbaramente uccise tra cui molti vescovi preti ma anche laici il sole e sorgerà le 7 18 tramonterà le 16 e 37 minuti andiamo a vedere subito il tempo bollettino della protezione civile delle marche che per oggi prevede un cielo sereno o parte prevalentemente nuvoloso con graduale attenuazione della copertura dal pomeriggio le temperature sono in aumento quelle minime e in diminuzione quelle massime domani mercoledì 25 novembre cielo sereno poco nuvoloso attenzione alle foschie giovedì 26 invece ancora tempo buono con poco nuvolosità temperature in lieve aumento tempo in peggioramento lieve peggioramento nel fine settimana i titoli delle prime pagine cominciamo dal carino di pesero la fotonotizia per il covid che taglia i posti letto a marche nord quasi 300 spariti per poter dedicare 100 posti ai malati del virus sulle case di riposo i numeri della strage il 40 per cento dei decessi causati dalla epidemia è avvenuta negli ospizi e in provincia di pesero 234 sono i contagiati confindustria invece la voce dei grandi elettori rompere con ancona frattura vicina assemblea prevista per fine mese palazzo perticari liberato dalla gru a pesero domani finalmente la facciata torna a splendere e poi tenta il suicidio con il gas salvato da un passante voleva farla finita con gli scarichi dell'auto un 53enne che è stato visto e subito segnalato alla polizia la tragedia è stata evitata in via barsanti e poi la gioia dei tifosi per la vl in un periodo duro dicono i giocatori siete i nostri eroi ladri scatenati con il lockdown l'apertura del corriere adriatico di pesero allarme a fano nuovo raid domenica dalla chiusura delle 18 conf commercio in carica agenzia di vigilanza esercenze esesperati ristoritalia dice più di 20 assalti in pochi giorni organizziamo passeggiate di sicurezza e poi reddito di cittadinanza via le revoche la max indagine dell'inps delle marche ok all'asta dei locali ex ghezzongo muore l'acquirente shock per la morte a cagli del dottore di tutti il lutto per di priolo e poi segnala una suicida un suicida corsa della polizia che riesce a salvarlo di taglio basso vise vl essere tifosi nell'epoca del coronavirus è una domenica magica per il bianco rosso ma i supporter soffrono fuori dagli impianti e a proposito impianti ma non sono quelli sportivi sono più o meno comunque simili nel senso che parliamo degli impianti sciistici sapete che adesso con l'arrivo del freddo e della neve in molti stanno fremendo per poter andare a sciare il governo ha già detto che probabilmente non darà l'ok per l'apertura delle piste da sci dunque c'è questo stallo da questo punto di vista in molti soprattutto i maestri di sci che sono tantissimi perché in italia sono 15 mila i maestri di sci che oggi dicono noi campiamo noi viviamo con quei soldi che guadagniamo in quei mesi invernali e allora di questo si parla anche sui giornali andiamo a vedere il carlino la pagina 4 carlino nazionale montagna senza turisti danno irreversibile le regioni all'attacco fateci aprire le piste i governatori preparano le linee guida per tornare in sicurezza negli impianti ma vengono gelati dallo stop dell'esecutivo addio alle vacanze sulla neve saltano anche Natale Capodanno la rabbia degli operatori molte famiglie vivono grazie allo sci in italia come dicevo 15 mila maestri di sci che vivono con reddito che percepiscono in 5-6 mesi di attività e allora benvenuti nel club da Pesaro ad Ascoli erano tutti al lavoro per cominciare le tre stazioni sciistiche del pesarese comunque ci sperano stiamo preparando le reti per le piste tutto il necessario per poter aprire in sicurezza sperando nel via libera almeno per le feste di Natale dice uno dei soci delle funivie del Catria Savio Tamburini e la richiesta di sciare da parte degli appassionati c'è e noi siamo pronti si preparano si laminano gli sci anche sul Monte Nerone se il governo darà l'ok e le precipitazioni ovviamente lo permetteranno saremo in grado di sciare fin da subito assicura Eugenio Burani numero uno delle sciovie Monte Nerone pure il Carpegna freme siamo in attesa del via libera del governo della neve dice il direttore della scuola di sci Giorgio Parlanti un po' più giù invece sulle marche nelle marche gli impianti di Bolognola potendo sarebbero pronti già per l'8 dicembre per l'immacolata stiamo aspettando il protocollo di sicurezza spiega il direttore di stazione Francesco Cangiotti per dare il via libera all'innevamento province e comuni ecco dove il virus adesso corre di più siamo sulla pagina 2 del Corriere Adriatico l'area di Ancona ha superato gli 8 mila casi ma il maceratese ha un'incidenza maggiore ieri 161 positivi nelle marche ma solo 633 tamponi scende la quota dei test infetti la diffusione è più contenuta nelle zone di Ascoli, Fermo e Pesero Urbino l'epidemia ha una diffusione più contenuta in queste tre province Pesero, quella più colpita durante la fase 1 nella scorsa settimana ha avuto una media giornaliera di 87 nuovi positivi con 170 positivi ogni 100 mila abitanti l'epidemia insomma nell'ultima settimana però possiamo dire che qui ha rallentato Marche Nord, posti letto di mezzati causa Covid per riuscire ad averne 100 per i pazienti positivi l'azienda ospedaliera ne ha dovuti tagliare 282 su 592 degli altri reparti ecco dove, intanto il bollettino tre vittime nella provincia di Pesero Urbino ma frenano i contagi stabili invece i ricoveri si vede la luce in fondo al tunnel a fine anno casi dimezzati secondo i calcoli del fisico Battiston stiamo per superare il picco ma serve massima attenzione ieri oltrepassata la soglia dei 50 mila morti sale il numero dei ricoveri ordinari stabili invece le rianimazioni questo per quanto riguarda l'Italia tornando invece nella cronaca pesarese ora tutti vogliono diventare infermieri boom di domande alla Politecnica delle Marche per i corsi di laurea delle professioni sanitarie ma i posti disponibili a Pesero restano soltanto 65 senza sport ci si ammala usiamo spazi e istruttori l'appello di Piero Benelli che è medico della VL già colpito e guarito dal Covid se le scuole di calcio si allenano senza contatto anche altri possono farlo mentre dalla pagina di Fano del Corriere nuovo ride di ladri almeno 5 colpi le incursioni domenica dopo l'orario pomeridiano del lockdown segnalati in tutto più di 20 assalti in via Cavour l'allarme di un testimone sventa un furto assegno le incursioni invece nelle vie Gabrielli e via Liguria passeggiate di sicurezza e contratto con un'agenzia di vigilanza le misure di Ristoritalia e Confcommercio che incontra il prefetto la pagina di Fano invece del Carlino città al buio e locali chiusi via libera ai ladri escalation di furti in numerose attività Ristoritalia dice facciamo le ronde Confcommercio siamo stati inascoltate Cassandre intanto ci sono vandili in azione anche al parco dell'aeroporto di Fano di nuovo danneggiato Urbani chiede conto al comune ora chi paga l'area intitolata Luciano Polverare è costata più di 170 mila euro adesso riqualificazione del Santa Croce e riapertura graduale dei presidi chiusi 5 Stelle incalzano il sindaco che ha strappato sull'ospedale nuovo di Muraglia subito la conferenza di area vasta il sindaco Seri minimizza l'attrito con il partito democratico di Fano dopo il confronto in giunta e ha parlato di sfumature diverse morti alla Profilglas risarcite le famiglie un milione a testa per i parenti di Morris Furlani e Rodolfo Cangiotti l'imprenditore Giancarlo Paci ha richiesto ha chiesto il rito abbreviato l'accusa è omicidio colposo mentre sulla pagina 11 del resto del Carlino industriali compatti chiudere con Ancona convocata l'assemblea degli iscritti per fine mese nessuno dei big ha preso bene il comportamento della compagine Dorica se si esce da questa alleanza io rientro subito in Confindustria dice un imprenditore e sulla questione Carifano ex Carifano la possibilità che diventi francese c'è questo risico bancario di cui parla il Carlino questa mattina Credit Agrico lancia un'offerta pubblica ad acquisto su Creval passaggio previsto primavera ma intanto le azioni si impegnano del 20% aspettiamo di vedere il piano industriale forse sarà un'acquisizione morbida sul nuovo ospedale invece a Muraglia il corriere desertificazione dei servizi con il maxi presidio di Marche Nord impossibile ripristinare un solo reparto chiuso nell'entroterra i 612 posti letto previsti dal progetto Renco completano con l'Urbino Pergola la dotazione del DM 70 oggi in regione il voto sulla mozione dei 5 Stelle anticlinica privata test rapidi nei drive così si alleggeriscono i laboratori ipotesi allo studio del Dipartimento di Prevenzione problemi di spazio e cambiamenti all'attuale logistica mentre sulla pagina 22 dell'arresto del Carlino la clinica Muraglia, Marta e la guerra dei no la consigliera regionale dei 5 Stelle dopo la mozione per bloccare il project financing ora punta l'artiglieria contro Chiaruccia siamo sempre stati contrari anche all'uso dei 20 milioni per la variante di Gimarra tregua armata tra Seri e il PD ma volono gli avvertimenti intesa su tre punti per questi tre punti che sono difendere la sanità con i sindaci rifiutare l'impoverimento del territorio e tutelare il protocollo del 2018 mentre Marche Multiservizi e Aset insieme per il Dio Biodigestore CGL e Cisle confermano l'ok all'impianto chiedono il coinvolgimento dei cittadini e caldeggiano la partecipazione delle due aziende mentre sulla pagina di faro ancora del Corriere città attrattiva per camperisti nasce una nuova area di sosta approvato lo studio di fattibilità per 13 stalli in Viale Kennedy vicino all'attuale parcheggio al mercato invece meno venditori diversi clienti senza mascherina controlli della polizia locale eseguiti in modo saltuario sotto ex Carducci silenzio da febbraio vogliamo la verifica Fano Cittadeale contesta la mancata seconda analisi sulla inagibilità è morto il dottor Sebastiano Di Priola invece a Cagli il medico aveva 68 anni giunse da Roma negli anni 70 e fu per decenni un caposaldo dell'ospedale Celli di Cagli è stato proclamato lutto cittadino aveva 68 anni la notizia ha fatto rapidamente il giro di Cagli e dell'entroterra suscitando profonda impressione il suo impegno nella Croce Rossa italiana anche a livello nazionale ha molto inciso nel territorio si era battuto contro lo smantellamento del Celli ma la politica aveva ormai già scelto il suo lavoro al pronto soccorso si univa alla sua attenzione per le nuove tecnologie questa è la pagina che troverete sul resto del Carlino di oggi mentre centro antiviolenza più forte del Covid ogni settimana aiutiamo 5 donne parla la coordinatrice di Parla con noi Gabriella Guerra durante il primo lockdown le richieste sono diminuite poi da giugno la ripresa in questo momento stiamo seguendo 48 casi più della metà sono precari ed età compresa tra i 26 e i 40 anni anche nel pieno della pandemia un'operatrice si è sempre recata comunque in struttura del gennaio gruppi per recuperare chi maltratta e sostegno anche ai minori e a proposito di minori dice Cristina Tedeschini la procuratrice del Tribunale di Pesor Urbino i maltrattati sono sempre più bambini i duelli tra i genitori trascinano molto spesso i piccoli nel vortice dell'odio il 10% dei procedimenti iscritti tra i noti riguarda violenze domestiche e a proposito di violenze quella che troverete sulla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico di oggi è una di quelle notizie che lasciano davvero che cambiano le giornate viene proprio da dire così è la storia di una donna la vedete in questa fotografia che purtroppo non c'è più è stata uccisa dal marito marito violento il 3 ottobre del 2007 l'ha uccisa pugnalandola ripetutamente lei diceva nelle sue denunce 11, anzi 12 denunce tra parentesi inutili contro questo chiamiamolo marito diceva in queste denunce aspettavo la mia razione di botte dovevo salvare i figli dalla bestia 11 denunce sporte chiaramente davanti a dei rappresentanti della legge 11, 12 denunce andate a vuoto 3 figli 3 figli che adesso sono seguiti dal cugino di questa donna questa donna che aveva solo 32 anni siciliana che aveva più volte chiesto aiuto senza mai essere ascoltata vittima di un femminicidio che per la prima volta ha visto condannare lo Stato per inerzia dimostrata dai magistrati di fronte ripetuti appelli caduti nel vuoto e questa donna appunto che non c'è più aveva tre figli i figli vivono con il cugino il cugino eccolo qua sotto Carmelo Calì lo Stato all'inizio aveva così aveva risarcito la famiglia con 259 mila euro poi a un certo punto l'avvocatura dello Stato dopo la liquidazione della somma ha impugnato la sentenza e ha chiesto indietro quel denaro il 19 marzo 2019 la Corte d'Appello di Messina accoglie il ricorso e condanna Carmelo Calì a restituire la somma ottenuta a titolo di risarcimento per i tre orfani oltre agli interessi maturati nel frattempo una sentenza shock per una famiglia che già tanto aveva sofferto Calì sostenuto però dalla moglie Paola non si arrende si rivolge alla Cassazione per ottenere giustizia e l'8 aprile del 2020 la Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Messina la stessa che dovrà pronunciarsi però nuovamente il 9 dicembre 2020 questa volta in maniera definitiva insomma vedremo se questi soldi resteranno resteranno al cugino che poi li ha già investiti nella BNB casa Calì per garantire a questi tre ragazzi il futuro oppure dovrà restituirli con gli interessi allo Stato da Senigallia allarme overdosi è bloccato il pusher la polizia ha fermato un quarantenne senigallese che portava a domicilio le dosi di droga trovato anche dello stupefacente sotto a tre castelli rogo 13 evacuati tir finisce nel giardino palazzina invasa del fumo e famiglie portate fuori a Castelcolonna paura invece per un mezzo pesante Val Metauro anzi è sulla valle Metauro ma in realtà la notizia arriva da Fano apriamo senza fare pari e molti bar restano chiusi l'amarezza dei gestori per le norme anti-covid che consentono solo l'asporto e qui vedete le foto di alcuni baristi di Fano sotto invece preti nostri le grandi storie della chiesa locale Pergola è la città più cardinalizia il vescovo Negusanti fece meraviglie anche oggi si parla di questo libro scritto da padre Silvano Bracci pericolo all'ex hotel Europa siamo a Marotta crollono le lastre di vetro il comune ora intervenga Lucchetti segnala quanto la zona sia frequentata e dunque pericolosa presentata anche una mozione sul ripristino delle vaccinazioni sospese per il covid invece a Mondolfo eseguite asfaltature finanziate con 70 mila euro il sindaco Barbieri annuncia anche una nuova illuminazione lungo la via cesanense a Urbino Università confermato l'aumento degli iscritti Urbino segue la tendenza nazionale il magnifico rettore Calcagnini dice siamo molto soddisfatti se ripensiamo ai timori dei mesi scorsi questi dati confermano una propensione allo sviluppo già nota sulla ferrovia non c'è più tempo da perdere sinistra per Urbino spera in una svolta per la tratta Fanurbino il PD si deve rassegnare a non ostacolare il ripristino negozi aperti fino alle 22 di sera se ne parla sul Carlino non funziona dicono alcuni degli intervistati è una possibilità dopo il 3 dicembre cioè di aprire di restare aperti fino alle 10 di sera ma pochi titolari ci credono intanto le casse piangono vediamo cosa succede da qui a Natale non credo che tanti vengono a passeggiare in centro il dopo cena protesta sui sensi 11 pedonali i pochi clienti così li fate sparire ieri mattina all'incontro con il sindaco il comandante della polizia locale dal prossimo fine settimana i sensi unici pedonali a Pesaro potrebbero aumentare di numero la proposta in esame è quella di percorrere via Toschi Mosca dal corso 11 settembre in direzione della piazzetta di fronte a musei civici ed è probabile che sarà interdetto il passaggio anche via Zongo nella direzione via Sabatini via Branca per non incrociare il flusso che sale verso piazza Lazzarini insomma al posto di toglierla probabilmente i sensi unici a Pesaro aumenteranno venduti all'asta invece i locali dell'ex Zongo muore l'acquirente è tutto dunque azzerato si volatilizzano 350 mila euro ma il comune tiene duro e decide di non cedere più gli spazi grandi contenitori in stallo l'ipotesi è inserire le superfici nel recupero del San Domenico addio a Carlo Rinaldi un signore del basket il tecnico anconetano aveva trovato a Pesaro la sua seconda casa allenando per due volte la VL prima e dopo tante esperienze compresa quella alla Stamura il cordoglio degli amici praticamente da tutta Italia Bianchini dice di lui una persona intelligente arguta con un formidabile senso dell'umorismo anche il Carlino ricorda Carlo Rinaldi il gentleman del parquet qui di taglio basso sopra però si gusta la gioia la VL dei tifosi così ci tenete vivi in rete su internet una valanga di messaggi alla squadra per le strepitose vittorie siete la nostra consolazione dicono i giocatori in questo periodo anzi dicono i tifosi siete la nostra consolazione in questo periodo difficile e a proposito di campioni tre vice campioni in un pugno di chilometri è l'articolo sul sul Carlino di oggi dove si parla di Morbidelli di Marini e di Arbolino piazzati secondi nel moto mondiale che si è appena concluso tutti diversamente collegati comunque alla nostra provincia pensare che prima della gara di domenica scorsa potevano uscirne in blocco incoronati da imperatori e questo è l'articolo che troverete sul giornale di questa mattina e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa chiudiamo rivedendo velocemente facendovi vedere in questo proprio ecco così a colpo d'occhio le prime due pagine di Pesero del Carrino del Corriere come vedete foto notizia covid taglio dei posti letto a Marche Nord quasi 300 spariti per poter dedicare 100 posti ai malati del virus e case di riposo i numeri della strage poi si parla di Confindustria ormai è rottura probabilmente si tornerà all'antica e si romperà con Ancona quindi torneremo ad avere Confindustria Pesor Urbino Confindustria Ancona la frattura è sempre più vicina mentre la cronaca tenta il suicidio con il gas è stato salvato da un passante la tragedia evitata in via Bersanti a Pesaro sul invece Corriere Adriatico di oggi l'apertura è per i ladri che sono scatenati si sono scatenati soprattutto a Fano a quanto a quanto pare con il lockdown sapete che alle 18 i bar alle 18 c'è la chiusura c'è la chiusura anche se poi i bar e i ristoranti sono già chiusi perché essendo arancioni ma comunque dalle 18 praticamente i ladri sono scatenati Confcommercio incarica un'agenzia di vigilanza per controllare queste vie gli esercenti sono esasperati Ristor Italia dice più di 20 assalti in pochi giorni e quindi a questo punto organizziamo passeggiate di sicurezza poi a centropagina reddito di cittadinanza via alle revoche quindi se siete tra coloro che hanno il reddito di cittadinanza ma che insomma non sono tanto a posto con la coscienza sappiate che la festa è finita e che è partita una maxindagine dell'Inps e delle marche e che quindi stanno per arrivare le revoche e allora di spalla invece l'emergenza i vaccini introvabili ora è caccia alle scorte mancano all'appello 320.000 vaccini anti-influenzali nelle marche tanto sono tante sono le dosi che le marche stanno disperatamente cercando di accaparrarsi ma il vaccino è diventato un bene introvabile e dopo il bando per l'acquisto di 150.000 dosi è andato deserto l'Asur ha avviato un'indagine un'indagine di mercato per individuare ditte disponibili a fornire le dosi in scorta fino a dicembre ma quanto pare è difficilissimo trovarle e con questo chiudiamo la nostra segna stampa grazie per averci seguito vi ricordo l'appuntamento del telegiornale di questa sera alle 20.30 e vi ricordo anche il nostro numero di telefono per le segnalazioni che è sempre lo stesso 338 49 68 250 che vedete in questo momento sul vostro televisore memorizzatelo e come sempre dateci una mano perché le vostre segnalazioni sono per noi importantissime e ci aiutano a portarvi poi l'informazione a casa alle 20.30 completa e con tutte le verifiche del caso quindi grazie anche per il vostro sostegno grazie anche per le vostre segnalazioni per noi sempre molto molto importanti buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti